I diritti soggettivi sono i diritti tutelati dall'ordinamento, riconosciuti agli individui e poi il loro esercizio, semplicemente quando si esercita, quando si fa valere il proprio diritto, protetto dall'ordinamento. Diritti assoluti sono quei diritti che valgono erga omnes, cioè nei confronti di tutti e che non presuppongono una particolare prestazione da parte degli altri, ma presuppongono solamente che gli altri non le danno questo mio diritto. Ad esempio, molto semplice, il diritto di proprietà vale verso tutti, perché tutti, semplicemente basta che gli altri si astengano dal disturbare il mio esercizio della proprietà. Interessi legittimi si usa questo lemma quando si fa riferimento anche all'amministrazione, perché l'interesse legittimo viene in campo quando ad esempio l'amministrazione non procede nel modo giusto ad esempio c'è un concorso e l'amministrazione non attua meccanismi equi rispetto a tutti quelli che concorrono. Si fa valere l'interesse legittimo in questo caso. La capacità giuridica è la capacità di essere centro di imputazione di rapporti giuridici, si acquista con la nascita e lo stesso concepito, come dice l'articolo 1 del codice civile, ha già la capacità giuridica per alcuni atti, ad esempio la successione può già essere, cioè già i diritti della successione è già concepito. Interdizione, siamo nel primo libro, quello delle persone, in particolare siamo nelle limitazioni comunque della capacità di agire. L'interdizione viene, diciamo, viene sancita con una sentenza del giudice e si attua quando c'è un'infermità mentale stabile o quando vi è magari un impedimento, insomma un'infermità abituale anche. L'interdizione praticamente viene nominato un tutore che dispone degli affari dell'interdetto e che per gli atti di straordinaria amministrazione ovviamente ci vuole il tutore e ci vuole anche, mi sembra comunque, il premesso del giudice, invece per gli atti normali, dei quotidiani, per esempio fare le spese quotidiane, oppure fare l'interdetto e così via, però è la limitazione più ampia della capacità di agire, infatti viene usata meno rispetto al passato. Quali sono le altre limitazioni? C'è l'amministrazione di sostegno che è quella che viene più utilizzata perché è quella più flessibile e i suoi, diciamo, i suoi limiti, la sua ampiezza viene definita di volta in volta dal giudice e per esempio ci può essere più stringente o meno stringente. Ci sono quegli atti che magari l'amministrato può fare da solo, ci sono atti che può fare con l'assistenza di un curatore o atti magari che può fare solo il curatore, diciamo. Quindi ha sia dentro di sé la figura dell'interdizione che quella dell'inabilitazione, però è più flessibile, ecco. Invece l'inabilitazione praticamente, l'inabilitazione viene nominato un curatore che integra la volontà dell'inabilitato per quanto riguarda i negozi, gli affari, diciamo, di straordinaria amministrazione. Ecco, queste sono. E quando è che subentrano? Ah, vabbè, subentrano l'inabilitazione quando vi è comunque un'infermità mentale o anche però magari quando uno è troppo pro, diciamo che erano istituti, erano stati pensati anche per la difesa del patrimonio quindi per esempio se uno cadeva spesso in ubriachezza o è troppo prodigo con i suoi soldi quindi è troppo generoso, insomma sperpa da tutto il suo patrimonio, si può nominare un'inabilitazione e quindi può essere queste cause. Invece per l'amministrazione è un'infermità stabile ma anche parziale o anche un'infermità fisica, ecco, ad esempio, può portare all'amministrazione. E interdizione? E interdizione, l'ho già detto, infermità abituale, stabile, mentale oppure quella che si va per i vecchi quando non capiscono più nulla, penso. Ok, mentre domicile, residenza? Allora, qua si sta parlando della residenza delle persone e allora il domicilio è dove vi è la sede principale degli affari di una persona quindi per esempio dove c'è uno che ha il suo studio professionale, per esempio invece la dimora è dove, la residenza è dove comunque abita abitualmente invece la dimora è dove sta al momento, però questo forse sto confondendo i domicili, i domicili dove c'è la sede l'uomo di una persona ha volontari ed abituale dimora eh sì, invece la dimora il luogo in cui la persona è solamente eh sì, detto giusto diritti della personalità diritti alla vita ah vabbè, questi qua sono i diritti sì, della personalità appunto che non sono non ci sia una legislazione ampia nei codici civili di questi però c'è esempio il diritto alla vita che viene in gioco quando soprattutto per esempio nel caso di aborto dove c'è il diritto alla vita del nascituro ma c'è anche il diritto alla salute della madre quindi c'è un scontro di diritti poi vabbè, vi è il diritto ovviamente al nome che il nome comunque ognuno ha diritto di essere chiamato col suo nome e se qualcuno non lo chiama col suo nome può comunque agire poi vi è il diritto alla reputazione all'immagine cioè la propria immagine non può essere usata da chi si vuole senza pagare magari uno vuole un corrispettivo o comunque bisogna avere il consenso per utilizzare l'immagine altrua a meno che la persona non abbia un incarico pubblico e per magari per dare una notizia oppure la persona abbia partecipato ad un evento pubblico e è stato fotografato comunque anche quando una persona ricopre un incarico pubblico ci deve essere un'esigenza di notizia e non insomma non si può comunque ledere troppo solo per dare la notizia poi vi è il diritto alla riservatezza che è il diritto un po' alla privacy e con il quale sono subentrati anche tutte le legislazioni riguardo i dati col decreto registrativo italiano e poi invece c'è tutto c'è tutto comunque è delle leggi speciali per i dati che diciamo che i dati devono essere vabbè non so a dire tutto vabbè comunque ci sono una protezione anche riguardo ai dati personali digitali diciamo poi vi è il diritto e dai non è che magari mi ricordo tutta la memoria così diritto dai andiamo oltre andiamo oltre servizio si si 8 minuti associazioni qua stiamo parlando sempre delle persone però in questo caso delle persone giuridiche cioè di quelle persone che non sono fisiche ma sono artificiali sono stabilite dall'ordinamento che comunque hanno comunque personalità giuridica cioè possono essere centri di imputazioni di rapporti giuridici appunto e qua ci sono le associazioni l'associazione ovviamente è caratterizzata dal fatto di non avere scopo di lucro ci sono le associazioni riconosciute e non riconosciute e le associazioni riconosciute sono quelle dove comunque vengono registrate nei registri delle persone giuridiche e c'è un controllo di mera legittimità comunque si vede se il motivo per cui è nata l'associazione è lecita o meno e comunque quello che caratterizza le associazioni riconosciute è il fatto che hanno l'autonomia patrimoniale perfetta e ciò significa che se l'associazione ha dei debiti non rispondono gli associati ma risponde l'associazione stessa col suo patrimonio invece nel caso dell'associazione non riconosciuta che appunto non è registrata ed è libera cioè comunque ci deve essere lo statuto ci devono essere l'amministratore e l'assemblea che sono gli organi necessari in ogni caso qua non vi è l'autonomia patrimoniale perfetta bensì quella imperfetta perché nel caso ci siano delle obbligazioni risponde l'associazione col suo fondo comune che comunque è ciò che è stato conferito dagli associati e poi comunque rispondono in solido anche tutti quelli che hanno agito in nome per conto dell'associazione quindi rispondono anche le persone diciamo e basta questa è la cosa importante la fondazione invece diciamo che una persona conferisce con un atto di donazione un patrimonio alla fondazione e la fondazione non è nient'altro che la gestione di questo patrimonio per uno scopo preciso ad esempio sappiamo le fondazioni magari scopi medici così che devono perseguire quello scopo con i soldi che gli sono stati conferiti da qualcuno può vabbè fare raccolta fondi così e comunque non può usare i soldi se non per il suo scopo possono avere attività economiche anche le associazioni queste ma i proventi che derivano da queste attività devono essere usati solamente per quello scopo lì ma è per profitto e per lucro personale e basta più o meno le imprese sociali le imprese sociali comunque mi sa che qua siamo nel campo già del terzo settore cioè di tutte quelle quelle associazioni che comunque sono venute in ascenda anche con la mancanza dello stato sociale che comunque sono associazioni che perseguono scopi sociali e che ultimamente sono state fatte anche delle leggi speciali per queste associazioni che lo stato comunque cerca di tutelare perché per il principio di sussidiarietà dove non riesce ad arrivare lo stato ci pensano queste associazioni e diciamo che l'impresa sociale è appunto un'impresa che un po' come quello che ho detto prima ha uno scopo sociale può fare attività economica ma deve usare i proventi per scopi sociali ma è solo quelli importanti non tutti sono 3000 non posso sapere più ok il comitato è sempre diciamo è un gruppo di persone che si uniscono temporaneamente per perseguire uno scopo in un dato momento ad esempio beh ci può fare esempi però diciamo che fanno una raccolta fondi quindi fanno una campagna per raccogliere i fondi e poi utilizzano quel fondo per perseguire un dato obiettivo può essere può capitare che il comitato si unisci una volta solo oppure può essere un comitato periodico per esempio ogni anno a Natale fanno un raccolta fondi per fare il presepe non so può essere una roba del genere ecco e i beni? vabbè i beni sono quegli oggetti che possono fare con cui possono fare capo i rapporti giuridici sono si dividono in molte categorie materiali immateriali beni materiali immateriali oppure fungibili o infungibili così ci sono tante categorie vabbè i beni pubblici i beni pubblici sono quei beni che che ad esempio i beni pubblici sono i beni del demagno dello Stato che hanno delle particolarità perché non possono essere uso capiti non possono essere venduti o così cioè il demagno necessario che sono quei beni che il demagno necessario sono quei beni che sono necessariamente demaniari per esempio i fiumi ecco ci sono i beni non necessari del demagno non necessario che sono del demagno ma potrebbero essere anche dei privati e basta questo più o meno ok i beni sono anche finanziari sì sì vabbè fatto si intende qualunque fatto giuridico appunto che ha conseguenze giuridiche atto invece ci vuole la volontà comunque di una persona particolare atto si intende quando comunque c'è dietro una persona diciamo fatto può essere anche un fatto naturale ad esempio un terremoto che ha conseguenze anche comunque giuridiche il negozio giuridico è una particolare categoria perché presuppone che ci sia la volontà di un soggetto il negozio giuridico ad esempio il testamento o ad esempio il contratto comunque c'è sempre dietro la volontà di un soggetto poi il negozio può essere unilaterale bilaterale cioè unilaterale e se conta la volontà di una sola persona bilaterale se ci vogliono per esempio i contratti sinallagmatici oppure recettizio non recettizio recettizio significa che per fare i suoi effetti deve essere ricevuto dall'altra persona non recettizio non è richiesto che sia e così via cioè tutti tipi di negozio giuridico negozi di accertamento negozi di accertamento ah magari quando si vuole accertare un certo diritto diciamo propongo soltanto di eliminare controverse dubbi sì per esempio accertamento della proprietà dove si accerta di chi è la proprietà uno questo gli elementi essenziali del negozio gli elementi essenziali del negozio cosa è la volontà della persona senza il negozio non esiste presupposti condizioni necessarie e principali elementi accidentali elementi naturali dichiarazione espressa e dichiarazione tace beh dichiarazione espressa ecco appunto quella che un soggetto lo esprime chiaramente tacita può essere magari la persona ha un certo comportamento che presuppone che lui abbia accettato un certo fatto per fatti concludenti anche per esempio bolla registrazione vabbè sono cose che servono per dar validità al negozio parliamo della pubblicità vabbè la pubblicità sì vabbè si fa per esempio quando si compra una casa pubblicità oppure quando si fa matrimonio ci vuole la pubblicazione serve per rendere perché gli altri possono fare delle opposizioni a un certo dato per esempio la pubblicazione del matrimonio chi vuole fare opposizioni la può fare e lo sa solo grazie a quella pubblicazione ok mentre la prescrizione vabbè prescrizione si intende quando il diritto passa un certo tempo ed allora il diritto non può più essere usato diciamo perché sei prescritto può essere ordinaria cioè ordinaria quella normale dieci anni ma può essere anche più lunga o più breve per esempio responsabilità extracontrattuale cinque anni può essere e da quando comincia a decorrere il tempo della prescrizione decorre magari non decorre da subito da quando si verifica un certo fatto ma magari decorre da quando una persona si accorta della lesione di un suo diritto o di un certo fatto diciamo vabbè la prova ci sono molti tipi ci può essere la testimonianza la confessione il giuramento le presunzioni non sto a spiegare bene cosa sono perché tanto non è neanche oggetto del corso non era della prova vuol dire chi è che deve provare un certo fatto di solito ricade su chi vuole difendere un proprio diritto comunque deve provare ci fai fatti e i mezzi di prova? i mezzi di prova già detto testimonianze presunzioni vabbè decadenti decadenza è quando magari la legge dice che una certa cosa deve essere fatta mentre un certo tempo è una sorta di prescrizione però poi dopo un certo tempo che decade un certo diritto è una sorta di prescrizione è il godimento e la disponibilità esclusiva di un certo bene è importante perché magari per lungo tempo si è stati divisi il godimento e la disponibilità per esempio abbiamo visto la teoria del dominio diviso nel medioevo dove appunto c'era chi godeva del bene ma magari la disponibilità del bene apparteneva ad un altro invece questa proprietà deriva anche da ribozioni borghesi perché è una proprietà comunque assoluta e totale diciamo ed è infatti anche protetta dalla costituzione e niente poi ci sono molte cose da dire sulla proprietà proprietà può essere di molti tipi via la proprietà per esempio edilizia la proprietà dei beni culturali che queste proprietà le cito perché sono proprietà che hanno dei regimi particolari per esempio la proprietà edilizia bisogna comunque rispettare certi standard dati dalle amministrazioni la proprietà dei beni culturali non se ne può magari godere in tutti i modi ma bisogna rispettare comunque anche il bene stesso oppure vabbè insomma le cito così perché sono particolari poi vabbè ci sono tutte altre cose che ci sono scritte gli atti emulativi gli atti emulativi sono quegli atti dannosi che creano un danno alla proprietà di qualcuno ma che non hanno nessun motivo per essere fatti cioè vengono fatti solo allo scopo di disturbare qualcuno nella sua proprietà le emissioni possono essere materiali e immateriali quelle materiali è quando si disturba materialmente la proprietà di uno ad esempio si entra nel suo fondo immateriali possono essere per esempio i rumori o gli odori i fumi che entrano nella proprietà di qualcuno e qua ci sono vari casi se l'immissione e se bisogna dire se l'immissione è tollerabile o intollerabile se l'immissione è tollerabile può essere che magari soprattutto l'immissione è tollerabile quando c'è una causa magari dell'impresa magari vengono fatti i rumori perché c'è un'impresa e allora l'ordinamento comunque vuole proteggere l'impresa perché comunque contribuisce all'economia del paese e dunque magari viene anche giustificato tuttavia bisogna dare un indennizzo a chi subisce l'immissione oppure può essere intollerabile perché supera una certa soglia stabilita da leggi così e dunque si avrà il risarcimento del danno che può essere sia patrimoniale che non patrimoniale ovviamente il risarcimento del danno non può dipendere dai motivi personali ad esempio uno dice io c'ho delle malattie cardiache questo rumore mi fa venire un infarto questo non può far parte del risarcimento del danno il modo di acquisto può essere a titolo originario o a titolo derivativo vabbè a titolo derivativo è quando per esempio una compravendita un contratto di compravendita uno mi trasferisce la sua proprietà invece a titolo originario è quando viene per esempio si acquista la proprietà nuova non deriva da nessun altro e i casi sono diversi può essere per esempio per uso capione principalmente per uso capione di solito oppure per invenzione o per occupazione occupazione ad esempio quando si trova una res nullius cioè una cosa di nessuno allora ne diventa proprietario originario una cosa res derelicta una cosa abbandonata oppure l'invenzione si trova un oggetto smarrito da qualcuno e in questo caso cosa bisogna fare bisogna cercare di restituire la persona se no se non c'è la persona bisogna darlo al sindaco del paese la norma che non viene usata ovviamente però è così al sindaco del paese la persona lo può venire a reclamare entro un anno se entro un anno non lo reclama la cosa diventa mia se lo reclama comunque la persona mi deve dare un premio perché insomma gli ha fatto ritrovare la cosa e questi sono i casi di acquisto a titolo originario oppure può esserci anche per altri casi ad esempio per commistione per unione ad esempio in una fabbrica viene corrato un prodotto dall'assemblamento di molti prodotti di molte mer di molte cose diverse e lì si crea una proprietà originaria perché quelle merci hanno vita una cosa nuova oppure vabbè insomma altri casi così ma diciamo sono questi principalmente la proprietà intellettuale sì la proprietà indirettuale l'ingegno comunque crea una proprietà nuova qua c'è poi la legge sui diritti d'autore che è una legge che non è nel codice ma è una legge fatta apposta diciamo servitù beh la servitù è quella che le servitù prediali da predium cioè fondo qua in questa situazione c'è un fondo dominante un fondo servente e il fondo servente perché si dice così perché deve subire comunque un cioè c'è un diritto del fondo dominante che grava sul fondo servente possono essere diversi tipi ci sono le servitù tipiche e atipiche che sono ma che condominio ha dentro il fondo il fondo il fondo per esempio uno c'ha una casa c'ha un campo quello del suo fondo qua stiamo parlando soprattutto qua a volte non si capisce perché comunque il codice è stato scritto nel 1942 quindi c'era ancora molto il fondo agricolo però poi si parlerà anche di condomini e tutto che sono cose più vicine sì ad esempio tu c'è la tua villa e il tuo fondo quello e niente possono essere diversi tipi di servitù di passaggio cioè ho detto regolati tipiche tipiche cioè tipiche sono quelle nette dal codice ma possono si può fare una servitù perché non è detta dal codice ma dalla volontà delle parti può essere la servitù cattiva cioè magari uno non mi concede di passare sul suo fondo allora il giudice stabilisce lui stesso la costituzione di quella servitù oppure volontaria cioè per la volontà delle parti tramite comunque un contratto e vabbè c'è la servitù di passaggio che è il diritto di passare su un fondo altrui o la servitù di acquedotto che è il diritto di far passare l'acqua sul fondo altrui per irrigare il proprio campo ad esempio e insomma sono queste ma possono essere diversi tipi diciamo servono perché magari un fondo non ha accesso all'acqua allora è ovvio che per forza avrà una servitù di acquedotto o di passaggio perché non ha accesso alla strada e così via magari si paga anche un indennizzo a chi ti concede la servitù comunque e basta poi la servitù si può estinguere allora sì allora diciamo adesso il potere di godimento e di disposizione quello che ho detto prima il potere di godimento è il potere insomma di godere di quello che può dare il bene ma ad esempio di prendere anche i frutti del bene il potere di disposizione vuol dire il potere di alienare il bene cioè di venderlo a qualcun altro o di comunque costituire sul bene stesso dei diritti per esempio il diritto di usufrutto il diritto di uso concederli a qualcun altro disporre vuol dire vendere o dare l'usufrutto su quel bene in questo senso la comunione è quando più persone hanno il possesso di un bene allora qua c'è da chiarire che le persone hanno il possesso totale del bene cioè ogni persona ha il possesso completo del bene poi però ognuno ha quel possesso per una quota cioè pro quota il che vuol dire che in base comunque per esempio ci può essere la comunione ereditaria e ognuno ha una parte dell'eredità ma ci sono quote diverse magari ognuno può usufruire del bene in relazione alla sua quota per esempio non so possono essere stabiliti che si usufrisce in riguardo a un certo tempo per esempio io usufrisco il weekend tu durante la settimana oppure io usufrisco di quella stanza tu di quell'altra insomma ci si cerca di accordare in questi modi e questa è la comunione ovviamente possono essere fatti degli atti di amministrazione della comunione che possono essere uno comunque può apportare miglioramenti alla comunione liberamente però per fare gli atti comunque ci vuole il consenso di un certo numero di compartecipi alla comunione e ci sono dei vari per esempio amministrazione per la straordinaria amministrazione ci vogliono i due terzi di quelli che fanno parte della comunione e così via se nessuno se non si provvede ad un atto di amministrazione che magari è necessario ciascuno si può rivolgere al giudice perché lo intraprenda lui stesso il condominio è quando si hanno delle proprietà esclusive però con delle proprietà comuni necessarie e dipende necessarie comunque per usufruire delle proprietà esclusive e ci sono diverse regole qua nel condominio ovviamente riguarda le proprietà comuni alle parti comuni e così via che comunque si può ognuno può soffrire delle parti comuni ognuno insomma e però vabbè qua c'è da dire più che altro riguardo al condominio del fatto dell'assemblea che si deve riunire almeno una volta all'anno e che c'è dei quorum particolari per scegliere diverse cose per esempio per esempio non so atti di straordinaria amministrazione in due terzi della seconda votazione ci vuole meno perché di solito non va mai nessuno a queste assemblee quindi i quorum si abbassano dopo la prima votazione poi c'è l'amministratore che invece rende esecutivi gli atti decisi dall'assemblea e fa il gestice comunque il condominio e niente basta delle obbligazioni prese comunque rispondono i condomini così vabbè multiproprietà vabbè multiproprietà non so per tipo mi pare ad esempio se era un fenomeno che è nato per alcune ville che magari le persone usavano per andare al mare e allora compravano insieme la cosa e uno diceva vado in questo periodo tu vai in quell'altro insomma vabbè è un contratto un po' così ma non è importante ok detenzione e possesso allora con il possesso si intende una cosa diversa dalla proprietà perché il possesso non è per forza diverso perché il possesso vuol dire che si ha il corpus e l'animus della proprietà cioè il corpus si ha la disponibilità del bene e l'animus cioè ci si crede di essere proprietari si può essere possessori legittimi cioè il possessore legittimo è quello che è proprietario ed ha pure il possesso del bene ovviamente perché c'ha il bene presso di sé e ha l'animus cioè crede e sa di essere proprietario oppure si può essere possessori legittimi dove si ha dove si è c'ha il possesso del bene ma non si è proprietari ci può essere il possesso illegittimo magari di buona fede dove non si sa che non si è proprietario perché magari si è acquistato il bene da colui che era non proprietario magari acquisto un bene da uno che non è proprietario e io non divento proprietario e quindi ho il possesso del bene ma non sono proprietario oppure del possesso illegittimo di malafede cioè io so di non essere proprietario ma sono arrivato al possesso del bene tramite violenza o per un atto occulto o comunque di nascosto questi sono i vari tipi di possesso invece la detenzione la detenzione è sia il corpus ma non sia l'animus cioè per esempio uno che ha l'affitto di una casa cioè ha il possesso del bene ma sa di non essere proprietario e riconosce che il proprietario è un altro ecco questa è la detenzione detta molto semplicemente il possesso vale titolo è una regola importante perché viene fatta per la circolazione dei beni perché per esempio se io compro un bene da uno che non è non domino cioè non è proprietario il solo possesso mi conferisce la proprietà del bene e questo ovviamente ci vuolgono dei presupposti ci vuolgono dei presupposti cioè che chi compra il bene comunque in buona fede cioè non sa che chi gli sta vendendo il bene è non proprietario poi ci vuole ci vuolgono altri presupposti che sono beh principalmente comunque la buona fede poi ce ne sono degli altri ma adesso non mi vengono in mente comunque questo è il possesso vale l'opinione per i beni immobili per i beni immobili di solito 10 anni però per i beni immobili mi pare 20 ovviamente bisogna può essere sia di buona fede che di mala fede cioè non contasi che usato il coso fosse in buona fede o in mala fede dopo il tempo se lo compra non ci devono essere interruzioni o le interruzioni possono essere di diritto per esempio uno fa una cosa per reclamare la proprietà di un bene quella è un'interruzione dell'uso capione oppure un'interruzione cioè si abbandona e non si usa più di quel bene allora non si più e poi vabbè bisogna dimostrare di aver avuto il possesso al giudice e il giudice emana una sentenza che è dichiarativa non è costitutiva e niente riconosce che sia la proprietà del bene in forza dell'uso che se ne è fatto e basta più o meno questo mentre il rapporto obbligatorio il rapporto obbligatorio è un rapporto che insomma ci sono due parti una parte deve fare una prestazione a favore dell'altra e c'è insomma c'è il creditore debitore insomma questo è il rapporto qua le fonti delle obbligazioni le fonti delle obbligazioni sono possono essere il contratto principalmente contratto o fatto illecito quindi un delitto un fatto illecito essenzialmente la responsabilità extra contrattuale quindi oppure altri cause o fatti che cagionano con quell'obbligazione mentre l'obbligazione naturale l'obbligazione naturale è quell'obbligazione che non c'è un vincolo giuridico però è dovuta a questioni morali o sociali e quindi uno non è vincolato però se comincia a fare una prestazione naturale una prestazione naturale per così dire non può avere l'assoluto di retenzio cioè non può avere indietro quello che ha dato in forza questo vincolo comunque ok mentre azioni di reintegrazione spoglio queste azioni sono le azioni a difesa del possesso e sono per esempio integrazione spoglio e quando qualcuno ha spogliato violentemente o clandestinamente il mio possesso di un bene e qua sono distinte dalle azioni petitorie perché azioni petitorie sono le azioni a difesa della proprietà invece quelle possessori di cui fa parte questa sono la difesa del possesso quindi uno può fare l'azione possessoria anche se non è proprietario e se per esempio quello che ha spogliato il bene è il proprietario che ha tolto il bene perché il proprietario vuole il bene questo qua dovrà fare successivamente un'azione petitoria ma dopo che si sarà concluso il processo quello dell'azione possessoria questa azione praticamente o niente una ha interrotto mi ha tolto il possesso del bene con violenza o clandestinità io reclamo il bene e niente e appunto si chiama perché il giudice mi reintegra nel possesso del bene e mi reintegra bene perché mentre interessi legali ah vabbè interessi sono interessi legali sono gli interessi stabiliti della legge di solito quando c'è un'obbligazione per esempio pecuniaria cioè se è ritardo nel pagamento così scattano degli interessi se le persone non hanno stabilito nulla quindi si applicano gli interessi legali che sono stabiliti appunto dalla legge ok i tassi usurari i tassi usurari sono i tassi che superano il limite della legge diciamo ciò che la legge dice che è il limite per i tassi di interesse se vengono apposti i tassi usurari allora la parte non deve dare nessun tassi cioè non si dà nessun interesse perché insomma si sono dati i tassi usurari e allora per punizione uno non dà nessun interesse la cessione del credito cessione del credito vuol dire cedere il credito che si ha in un rapporto obbligatorio a qualcun altro e ci sono diverse figure di cessione del credito ovviamente non è necessario l'accettazione del ceduto perché c'è il cedente che è colui che ha il credito lo cede da qualcun altro cessionario e poi vi è il ceduto che è il debitore e non vi è bisogno dell'accettazione del debitore però deve essere notificata questa cessione perché se il debitore non sa dell'avvenuta cessione e paga al cedente al cedente allora comunque il debitore si è liberato perché non sapeva che il credito era stato ceduto dunque vi bisogna di questo e poi il credito viene ceduto con le garanzie che sono annesse al credito e con i diritti annessi al credito e basta più o meno è una cessione di credito appunto può essere fatta a prosoluto per esempio io cedo il credito a qualcuno perché mi sciolga dal debito che io ho con questo concessionario stesso per esempio un debito che ho con qualcuno allora io gli cedo il credito che ho con qualcun altro per liberarmi dal debito appunto ok mentre obbligazioni solidali obbligazioni solidali vuol dire che insomma si risponde in solido cioè ci sono più persone che rispondono dell'obbligazione e rispondono in solido cioè il creditore può chiedere l'adempimento della prestazione da parte di chiunque dei debitori e se viene chiesto a qualcuno questo deve adempiere completamente l'obbligazione tuttavia poi ha l'azione di regresso cioè può chiedere il risarcimento di quello che ha dato agli altri che comunque devono dargli la loro parte diciamo di debito delegazione attiva delegazione attiva vuol dire che vi è il vi è un delegante che è il creditore che fa un accordo col questo è un po' strano sì un accordo trilaterale che comprende sia il debitorio che il creditore che un terzo è praticamente un accordo in forza del quale il debitore accetta di corrispondere il credito ad un terzo appunto sempre passiva delegazione passiva qua siamo nella cessione passiva del rapporto obbligatorio cioè il debitore in questi casi ovviamente ci vuole l'accettazione da parte del creditore della cessione e ci vuole l'accettazione del creditore e niente l'accettazione passiva vuol dire che il debitore si sostituisce al debitore un terzo e che comunque il debitore il primo debitore non si libera dal suo debito a meno che non lo liberi il creditore e deve rispondere in solido col terzo tra l'accollo l'accollo è un accordo fra il debito un terzo perché si accolla il debito del debitore e cioè si differenzia dall'espromissione che praticamente l'espromissione è la stessa cosa ma nell'espromissione nell'accollo vi è un accordo se non sbaglio perché è un accordo col creditore e dunque il creditore cioè ci può essere sia l'accollo interno che il creditore non è coinvolto oppure l'accollo esterno dove è coinvolto pure il creditore e allora il creditore subentra nei diritti del debitore rispetto al terzo ok mentre la compensazione la compensazione significa che quando se io ho un debito con un creditore il creditore ha allo stesso tempo un debito con me i decrediti si possono compensare cioè si eliminano reciprocamente ovviamente ci può essere la compensazione giudiziale oppure la compensazione volontaria cioè fatta dalle parti e così via questi sono i medi in cui si può estinguere un'obbligazione diversa dall'adempimento l'annovazione significa che le parti decidono di rendere il rapporto obbligatorio un altro nuovo appunto innovazione remissione remissione significa praticamente remissione del debito il creditore rimette il debito cioè libera il debitore dal debito ok ok mentre l'initazione usa il contante quant'è? 3.000 euro che uno cioè deve accettare i soldi fino a 3.000 euro dopo poi non accettare è il massimo che si può usare e la surrogazione? la surrogazione è sempre una diciamo una cessione dal lato attivo del rapporto obbligatorio è il creditore che un terzo si surroga nel ruolo di creditore responsabilità contrattuale responsabilità contrattuale che vuol dire che se uno non ha dempie ha un'obbligazione allora deve rispondere deve rispondere dell'indempimento risponde con tutto il patrimonio mora del debitore mora del debitore vuol dire il debitore è diverso dal ritardo nel pagamento perché nel caso della mora nel ritardo si deve pagare comunque i danni da ritardo però nella mora vi è sì che bisogna pagare i danni da ritardo ma inoltre vi è la perpetuatio obbligazioni il che significa che mentre di solito se c'è l'indempimento per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore la responsabilità del fatto è del è diciamo cioè il debitore si libera dall'obbligazione proprio perché vi è impossibilità sopravvenuta invece se il debitore immora subisce anche il rischio per impossibilità sopravvenuta allora questi sono diritti reali di garanzia cioè sono quei diritti che si danno a garanzia di un certo credito e allora il pegno si costituisce su beni mobili e c'è lo spossessamento cioè il creditore prende possesso del bene oggetto di pegno e il creditore può non può usare i frutti del pegno per esarcire comunque il credito e può diciamo che tuttavia non può disporre del pegno a meno a meno che il creditore il debitore sia in adempiente allora può vendere il pegno per comunque ristorarsi dall'indempienza del debitore invece l'ipoteca si costituisce su beni immobili può essere giudiziale o può essere volontaria e c'è ovviamente vi è il diritto sia che il pegno che l'ipoteca c'è lo ius di straendi che vuol dire il diritto di comunque vendere il bene e lo ius il diritto di sequela il che vuol dire che se anche il bene oggetto di pegno o il bene ipotecato vengono vendute ad esempio una casa viene venduta con l'ipoteca il terzo acquirente la casa comprata dal terzo acquirente sarà gravata dal diritto di ipoteca questo significa diritto di sequela cioè che segue il bene e poi il diritto di prelazione la prelazione vuol dire che il creditore è preferito agli altri creditori nel concorso fra i creditori per rispetto agli altri e le cause di prelazione sono il pegno l'ipoteca e vi è anche il privilegio diciamo che invece è stabilito dalla legge il contratto il contratto è ovviamente l'atto di autonomia delle parti dei privati per eccellenza perché il privato poi vabbè c'è da dire che è molto importante a forza di legge fra le parti inoltre il contratto possono essere tipici o atipici quelli tipici sono quelli stabiliti dalla legge che sono molti lo sappiamo compravendita deposito comodato così via oppure possono essere atipici cioè i privati hanno autonomia contrattuale cioè possono stabilire contratti che non sono previsti dalla legge tuttavia non si può stabilire qualunque contratto perché vi è comunque uno degli elementi essenziali del contratto è la causa ed è la causa è proprio un discriminante perché la causa significa diciamo un po' il motivo che fa sorgere il contratto lo scopo che le parti perseguono tramite il contratto e la causa può essere lecita o illecita e soprattutto comunque l'ordinamento tutela solo quei contratti che sono degni di tutela da parte dell'ordinamento che cioè comunque perseguono dei scopi approvati dall'ordinamento ci sono i contratti illeciti per esempio ovvio che è un contratto tramite una parte per fare spaccio di droga e così via sono illeciti ovviamente i contratti illeciti se la causa è illecita ovviamente si ricade nella fattispecie della nullità del contratto il che vuol dire che il contratto non ha efficacia offerte al pubblico offerte al pubblico allora praticamente nel contratto normalmente ci vuole la proposta e l'accettazione il contratto si conclude quando il proponente riceve l'accettazione dell'accettante invece nella promessa come è il promessa offerte al pubblico vi è la proposta però il contratto si conclude semplicemente con la manifest con diciamo la proposta diciamo la volontà di quello lì che vuole concludere il contratto per esempio per farsi capire un supermercato mette tutti i prodotti e uno lo acquista semplicemente comprando quel prodotto ma non c'è proposta è affettazione mentre gli errori di un contratto errore vuol dire è un vizio della volontà e può essere l'errore ostativo che può essere per esempio l'app su scalami cioè un errore un errore ad esempio nella trascrizione o nella trasmissione della volontà per esempio ma posso dire voglio dieci unità di un certo bene gli scrivo mille ma per sbaglio e questo è l'errore ostativo e poi invece vi è l'errore vizio che è quell'errore che io ho valutato malamente con quel contratto e quindi ho accettato un contratto che non volevo accettare ma l'ho fatto per errore ovviamente l'errore l'ordinamento vuol tutelare sia chi compie l'errore però anche l'altro con l'altro che sta contrattando perché comunque uno sta sbagliato e quindi l'errore deve avere il presupposto dell'essenzialità cioè l'errore deve cadere su delle componenti comunque essenziali del contratto per esempio sulla qualità sulla quantità e deve essere riconoscibile dall'altro contrattante perché per esempio cioè è ovvio che se io dico sono solito comprare dieci cose scrivo mille per sbaglio l'altro se ne può accorgere e allora ci vogliono questi due requisiti l'essenzialità e la riconoscibilità e il contratto può essere annullabile se vi è l'errore il dolo può essere determinante o incidente il dolo determinante vuol dire che il dolo cioè i raggiri tesi dall'un contraente all'altro hanno determinato appunto il fatto che l'altro contraente abbia stipulato il contratto ma il contratto è stato stipulato solo per i raggiri fatti dall'altro contraente invece il dolo il dolo incidente vuol dire che il dolo vuol dire che il dolo ha solo influenzato la volontà del contraente ma avrebbe stipulato lo stesso il contratto semplicemente l'avrebbe stipulato in maniera diversa ovviamente il dolo determinante porta alla nullità del contratto invece il dolo incidente porta all'annullabilità del contratto le forme del contratto a volte l'ordinamento presuppone se proprio ordina di utilizzare certe forme per il contratto altre volte possono essere i privati nella loro autonomia che stabiliscono che un certo contratto deve avere una certa forma e le forme possono essere può essere per esempio la scrittura privata oppure vi è una forma minima ad esempio nel contratto di fideiussione si dice che basta che sia espressa ovviamente è una forma minima perché di solito i contratti anche di fideiussione si fanno con forma scritta però è importante perché se si dice forma espressa si esclude comunque la profezionamento del contratto per fatti concludenti cioè per fatti che fanno presupporre che uno abbia voluto un certo contratto ma ci vuole comunque e invece viene eliminata questa possibilità poi ci vuole la forma scritta per esempio per la vendita di un immobile ci vuole la forma scritta oppure l'atto più con una forma più severa a donazione in quanto ci vuole l'atto pubblico cioè deve essere fatto davanti a un pubblico ufficiale o davanti a un notario e ci vogliono due testimoni anche questa è la forma più rigida imposta dell'ordinamento ok la rappresentanza volontaria allora la rappresentanza volontaria vuol dire che un soggetto si mette a a gestire gli affari di un altro perché cioè il rappresentato ha dato una procura al rappresentante perché gestisse i suoi affari e dunque il rappresentante gestisce gli affari di un rappresentato e può esserci la rappresentanza diretta o indiretta diretta vuol dire che agisce in nome per conto del rappresentante e gli effetti che gli effetti giuridici che derivano dagli atti compiuti dal rappresentante ricadono direttamente sul rappresentato invece nel nella rappresentanza vabbè fa niente nella rappresentanza indiretta nella rappresentanza indiretta ci vuole un altro atto per trasferire gli effetti dal rappresentato al rappresentante oggetto del contratto l'oggetto del contratto diciamo che non è non è non ci sono leggi del codice riguarda questo ma è per esempio il regolamento del contratto l'oggetto del contratto no forse no quello è il contenuto l'oggetto l'oggetto 1346 possibile lecito determinato ah sì l'oggetto deve essere possibile cioè non può essere per oggetto qualcosa di impossibile per esempio una prestazione impossibile poi deve essere lecito per esempio non può essere la droga e cose del genere e deve essere determinato o quantomeno determinabile è quantomeno determinabile le parti si possono rimettere a un arbitro a un arbitratore che tramite l'arbitraggio decide lui l'oggetto del contratto il contratto preliminare no il contratto preliminare è un contratto che in forza del quale le parti si obbligano a concludere un contratto definitivo ovviamente questo tipo di contratto viene utilizzato per esempio nelle vendite immobiliari perché magari il contratto definitivo è molto complicato e allora le parti prima di di stipulare il contratto definitivo stipulano un contratto che comunque obbliga le persone a stabilire fare un contratto definitivo però fanno un contratto preliminare che magari non ha ancora tutta la disciplina di quello definitivo ovviamente il contratto preliminare obbliga con quelle parti a stipulare quello definitivo e dunque uno cioè uno non è che si può sciogliere così dal contratto preliminare deve comunque pagare per l'inadempimento all'altro perché comunque si è obbligato a fare quello definitivo diceva tutela per immobili da costruire ah vuol dire per esempio viene fatta perché per esempio qua si costruivano degli immobili si acquistavano dei immobili in pianta il che significa che il costruttore ancora prima di aver completato la costruzione del condominio diceva vendeva i futuri appartamenti e tuttavia magari poi il costruttore falliva o non completava l'opera e allora si è poi il legislatore ha pensato a fare una tutela anche per per comunque questi poveri acquirenti in pianta e quindi gli ha dato per esempio si è stabilita la trascrizione del contratto preliminare la trascrizione del contratto preliminare significa che il contratto è opponibile poi ai terzi ed ha un effetto prenotativo cioè comunque se si è fatto il contratto preliminare si avrà la preferenza rispetto ai altri per acquisti di quel bene e poi vi è vi ha stabilito anche comunque delle garanzie per i colori che costruivano gli appartamenti in pianta la causa la causa si è vabbè l'ho già detto più o meno può essere lecita o illecita la caparra la caparra significa quando si fa un contratto si dà una certa pena ad un altro e diciamo se si che poi viene restituita al termine del contratto tuttavia se uno si scioglie dal contratto deve restituire l'altro contratto si tiene la caparra se si scioglie quello che c'è la caparra deve ridare il doppio della caparra ok se io posso fare un contratto in cui dico che gli effetti ricadono su un terzo ma se il terzo ovviamente non accetta non ricadono su di lui e io devo risarcire comunque il danno la mancanza di volontà la simulazione ah vabbè questo vuol dire quando comunque i contraenti i contraenti fanno un contratto ma stanno simulando per simularne un altro la simulazione può essere assoluta cioè il contratto è simulato non ha nessun valore e basta oppure può essere relativa cioè c'è il contratto simulato e poi c'è un altro contratto dissimulato quindi il contratto simulato nasconde un altro contratto dissimulato appunto ovviamente il contratto la simulazione assoluta può essere fatta accertare dal giudice anche la simulazione relativa ovviamente gli effetti gli effetti della simulazione cioè insomma i terzi potrebbero avere degli svantaggi dovuti a questa simulazione perché magari hanno acquisito dei diritti in forza di una simulazione e allora i simulanti potrebbero essere obbligati a risarcire il danno ai terzi l'annullabilità l'annullabilità può derivare dei vizi delle volontà più o meno i vizi della volontà cioè dolo violenza o errore convalida convalida è l'atto tramite il cui si rende valido un contratto che era annullabile trust vuol dire che c'è un settlor cioè un trust e il settlor dicevano un altro di comunque gestire il trust cioè dei soldi delle cose l'annullità l'annullità può essere dovuta vuol dire che uno degli oggetti uno degli aspetti essenziali del contratto cioè la causa l'oggetto e l'accordo è mancante o illecito oppure non è stata rispettata la forma imposta dalla legge il diritto al consumatore il diritto del consumatore sono state fatte delle leggi apposta che non sono nel codice ovviamente e praticamente si tende a tutelare il consumatore inteso quello che acquista non in però non in cioè non deve essere un professionista quello che acquista deve essere un normale acquirente senza nessuna connotazione particolare e ci sono delle tutele ad esempio delle tutele contro le clausole vessatorie contro le clausole capestro cosiddette e per cui il contratto è annullabile o nullo in certi casi le clausole vessatorie possano essere di diversi tipi poi non è non è stata studiata accuratamente quella disciplina però comunque questa è la base vendita obbligatoria vendita obbligatoria vendita obbligatoria è il contratto di comprabendita nel quale boh non me ricordo questo la proprietà non passa immediatamente ma il venditore ha l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore ah ok si vabbè si fa un'obbligazione praticamente di cosa futura cosa è il trucco il compratore sta dopo dell'autorità della cosa può chiedere soluzione l'obbligazione al venditore il venditore deve dare il bene deve consegnare il bene venduta all'acquirente deve garantire l'acquirente dai vizi del bene infatti c'è la garanzia per i vizi e c'è la garanzia per l'evizione il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni invece l'evizione praticamente vuol dire che se il compratore è stato chiamato in giudizio perché è stato chiamato in giudizio perché un terzo ha reclamato la proprietà di un bene allora l'acquirente può chiamare in giudizio il venditore che deve presentarsi e inoltre può avere può avere il risarcimento del danno dal dal venditore appunto vuol dire che il contratto viene risolto perché una delle parti è un adempieno e niente vuol dire che c'è stata un'impossibilità sopravvenuta non imputabile ad una delle parti dunque il contratto si risolve cioè si risolve vuol dire che non è più efficace mentre eccessiva onerosità eccessiva onerosità sopravvenuta vuol dire che il contratto è diventato troppo oneroso e dunque si scioglie ovviamente l'onerosità deve essere cioè non deve essere quella prevedibile cioè deve essere quella non prevedibile ovvio mentre vendita dei beni di consumo vendita di beni di consumo appunto è soggetta comunque ai diritti del consumatore e dunque a tutto quel codice del consumatore che abbiamo detto prima vendita con riserva di proprietà vendita con riserva di proprietà vendita rate sì vendita con riserva di proprietà vabbè perché la proprietà passa solo alla fine questi non li ho visti bene cioè sono comunque i contratti in cui si vendono titoli finanziari vendita a termine vuol dire che la vendita cioè la finisce il compitore una certa quantità di titoli in una data ah dopo eh sì riporto beh riporto sempre una vendita di titoli e dopo boh questi non li ho visti bene quanto mi ricordavo io che tu pagavi hai visto alcuni titoli con insessibilità eh sì tipo una roba strana comunque che è stata quella della che è stata quella della crisi eh sì vedi tu questi titoli eh quello lì si impegna a restituirsi questi titoli e però è passato un certo tempo quindi può essere salito il prezzo il prezzo si è è questo sono contratti aleatori infatti così chiamano la garanzia per evizioni eh quello che ho detto prima garanzia per evizi garanzia per evizi vuol dire che sono dei vizi che comunque rendono il bene non più idoneo a quello che il compratore aveva immaginato devono essere denunciati entro otto giorni e entro otto giorni poi ovviamente possono esserci vizi occulti che si sono se no si sono presentati successivamente perché non si potevano eh il compratore non si poteva accorgere con la normale diligenza di questi vizi allora te gli otto giorni cominciano a decorrere da quando si è coperto questi vizi locazione locazione è comunque il dare un bene è praticamente detto volgarmente l'affitto cioè si dà un bene ad un altro in cambio di un di comunque del denaro per un certo periodo di tempo e ovviamente c'è il locatore il conduttore il conduttore è colui che usa il bene che gli è stato dato in locazione dal locatore e ci sono degli obblighi cioè il conduttore non può alterare il bene che gli è stato consegnato deve rispettarne comunque la conformazione del bene e invece e così via e poi vabbè ha l'obbligo di riconsegnare una volta scaduta la locazione il leasing il leasing è un contratto finanziario tramite cui c'è l'utilizzatore di un certo bene chiede ad un intermediario finanziario di comunque dargli un utilizzo un bene quindi chiede ad un intermediario praticamente di procacciarsi questo bene o di farlo costruire e poi l'utilizzatore lo utilizza per un certo tempo quindi praticamente l'intermediario compra il bene poi lo dà in utilizzo ad un altro e poi questo utilizzatore ha un'opzione comunque di acquisto di quel bene quindi può pagare una quota in più per comprarsi quel bene dall'intermediario comunque è un contratto così ok mentre l'appalto l'appalto è il contratto con cui diciamo si dice a qualcuno di realizzare una certa opera e deve esserci una liquidi novi cioè deve essere costruita un'opera nuova può esserci l'appalto pubblico che ci sono delle regole particolari per scegliere chi è l'appaltatore cioè ci devono essere delle regole eque invece c'è l'appalto privato che sceglie il privato il contratto d'opera il contratto d'opera praticamente è il contratto tramite cui comunque un professionista si obbliga a fare una certa certa attività con il lavoro principalmente con il suo lavoro per esempio il contratto che si fa con un avvocato o così il mandato il mandato significa che si dà a un altro la possibilità di compiere degli atti in nome per conto di un'altra persona può esserci il mandato indiretto o il mandato diretto il mandato indiretto significa che il mandato il mandante no il mandato acquista cioè diciamo ricadono su di lui gli effetti giuridici e poi ci vuole un altro atto per trasferire questi atti in capo al mandante invece il mandato diretto si trasferiscono direttamente in capo al mandato il mandante il contratto di agenzia il contratto di agenzia vuol dire che una persona un'impresa paga un'altra persona perché gli trovi diciamo degli affari praticamente ecco sì cioè gli trovi degli affari in giro e poi lo paga in base con una provvigione in base agli affari che ha procacciato all'impresa il contratto di affilazione commerciale è il franchising cosiddetto cioè vuol dire che c'è un una c'è un'impresa e poi ci sono altre imprese che si affiliano ad essa e l'impresa principale dà a queste imprese comunque un dà un particolare marchio dà la possibilità di utilizzare un particolare marchio poi dà comunque delle conoscenze gli dà magari cioè per esempio ma è molto semplice il mcdonald's cioè tutti si cercano di affiliare e prendono il marchio del mcdonald's e fanno i prodotti del mcdonald's praticamente è un'impresa che non ha la sua personalità ma acquista quella dell'impresa principale una filiale questo è il franchise mediazione è un po' simile al contratto di agenzia però diciamo che il mediatore in teoria non avrebbe nessun contratto è uno che di sua spontanea volontà autonomamente fa incrociare l'offerta e la domanda per un certo bene e poi si prende i soldi con una provvigione ovviamente poi incaricato dalle imprese contratti reali contratti reali significa quei contratti con cui si perfezionano perché normalmente i contratti si perfezionano col consenso anche la vendita si perfeziona col consenso infatti poi come abbiamo detto la consegna della cosa e il pagamento del prezzo sono obbligazioni che conseguono al consenso invece i contratti reali sono quei contratti che si perfezionano con la consegna della cosa e sono il deposito che appunto il deposito vabbè uno deposita una cosa presso un altro e poi può essere il mutuo che il mutuo uno consegna del denaro o altre cose ad una persona e questa persona deve restituire il tantum dem use dem generis cioè il tanto e dello stesso genere quanto ha ricevuto ovviamente poi il contratto si presuppone essere oneroso quindi il mutuo e dunque bisognerà pagare pure gli interessi e basta questi sono i contratti reali cioè che si perfezionano con la consegna della cosa il deposito bancario vuol dire sempre che comunque i crediti e i debiti che si hanno percivesse una certa banca si compensano automaticamente e si può richiedere comunque alla banca un certo credito insomma vabbè sono un po' comunque poi c'è anche il conto corrente il contratto di credito che sono un po' quelli comuni che vengono utilizzati la transazione transazione vuol dire che due persone cercano di risolvere una disputa comunque facendosi concessioni reciproche dunque ma si facendosi concessioni reciproche è così titolo di credito titolo di credito ma questa è una parte che non ha fatto bene perché non ho capito e niente sono per esempio le cambiali le girate però non so bene questo non si capiva sono contratti agrari che comunque sono stati tolti sono stati eliminati adesso c'è solo l'affitto di fondo rustico forse la suicidia è ancora possibile riguarda l'allevamento vabbè la ripetizione di indebito ripetizione di indebito vuol dire che uno ha pagato un indebito verso chi non era creditore perché per uno sbaglia ad esempio e allora può riapere indietro ciò che ha pagato gestione d'affari gestione d'affari vuol dire un terzo si comincia prende in capo gli affari di un altro spontaneamente volontariamente una volta che ha iniziato a gestire gli affari deve continuare non può interrompere responsabilità per fatta altrui responsabilità per fatta altrui vuol dire che fatta altrui ah sì qua stiamo la responsabilità extra contrattuale che vuol dire la responsabilità che deriva da un fatto illecito e la responsabilità per fatta altrui è per esempio la responsabilità cioè vuol dire che uno risponde di un fatto commesso da un altro anche se non l'ha commesso lui stesso e per esempio sono i genitori rispetto ai figli oppure i precettori come dice il codice rispetto agli allievi o gli studenti diciamo che rispondono loro a posto dell'allievo o del figlio a meno che non dimostrino che comunque ciò che è successo il danno non dipendeva da loro e non potevano farci assolutamente nulla perché poi c'è danno il danno nella responsabilità extracontrattuale c'è il danno emergente diciamo il danno che cioè c'è il danno che causa è un po' strano però vabbè diciamo che è il danno che si fa a seguito di un illecito e che deve essere esarcito ecco appunto un nesto di casualità un nesto di casualità vuol dire che bisogna vedere che c'è un nesto di casualità fra l'evento avverso fra l'illecito e il danno è un elemento essenziale vabbè danno ambientale vabbè questi sono particolari tipi di responsabilità extracontrattuale il danno ambientale se ne occupa il ministro dell'ambiente comunque invece c'è il danno da responsabilità medica e così via ok poi c'è il matrimonio matrimonio e niente i figli nati da genitori ragazzi da parentesi e vabbè comunque sono possono essere riconosciuti anche loro non so non so la prova della filiazione la prova della filiazione cioè ci sono delle presunzioni di filiazione se un figlio è nato nel matrimonio si presume che sia figlio del marito della moglie poi diciamo che la prova può essere data con qualunque mezzo può essere data per esempio se uno è nato fuori dal matrimonio se c'è qualcuno è nato fuori dal matrimonio i figli i genitori lo devono riconoscere come figlio lo possono fare all'atto di nascita o in un atto successivo da nanti in ufficiale pubblico e e niente la prova della filiazione può essere data con ogni mezzo vuol dire che per esempio come ho detto opera la presunzione legale di paternità allora quando un figlio sia nato all'interno del matrimonio ovviamente questa presunzione può essere vinta con appunto il disconoscimento della paternità che significa che appunto il padre la madre o il figlio stesso possono disconoscere questa paternità presunta e ovviamente il figlio l'azione è imprescrittibile invece per il padre ha un anno di tempo oppure se non sapeva della sua impotenza così deriva da quando ha conosciuto la sua impotenza oppure la madre ha sempre mi pare un anno sei mesi dalla nascita del figlio mi pare il divorzio ci vogliono delle cause la causa ovviamente statisticamente più rilevante è la separazione precedente devono essere passati se non sbaglio 12 mesi dalla separazione precedente perché queste sono cose che sono cambiate molto in ultime poi oppure le altre cause sono per esempio il matrimonio non è stato consumato mi pare oppure oppure una pena comunque una condanna penale di uno dei coniugi così però la causa principale più statisticamente è la separazione precedente e niente il divorzio vuol dire scioglimento del matrimonio cioè c'è il vincolo giuridico non si hanno più quegli obblighi dei coniugi che si hanno normalmente gli obblighi dei coniugi sono l'obbligo di convivenza l'obbligo di fedeltà e l'obbligo di di contribuzione alle spese della famiglia che sono obblighi ovviamente che non sono coercibili cioè uno non può essere obbligato tuttavia possono essere utilizzati diciamo dal giudice come addebito della separazione l'addebito della separazione vuol dire su chi ricade la colpa della separazione e questo poi ha degli effetti perché per esempio il coniugi su cui è ricaduta l'addebito della separazione poi ha per esempio adesso questo non mi ricordo bene però ha dei limiti per esempio nella successione o magari nel mantenimento insomma comunque ha degli svantaggi e niente questo basta dai mi metto tutto più o meno la separazione è quello ciò che precede il divorzio non cessano completamente i vincoli per esempio c'è ancora comunque può essere dato un mantenimento alla moglie le robe del genere concordatari vuol dire concordato vuol dire che quello fatto dalla chiesa comunque c'è c'è il concordato che sono gli accordi fra state e chiesa e dunque il valore il matrimonio concordatari ha effetti anche sul piano civile e ovviamente poi c'è tutto la squaso delle sentenze fatte dai tribunali canonici che per avere effetto nel nostro ordinamento devono essere delibate dalla corte d'appello quindi la corte d'appello deve vedersi hanno validità per il nostro ordinamento dice niente con famiglia si intende una definizione si intende che le persone legate da parentela o affinità parentela sono le persone che derivano dallo stesso stipide invece affinità è quella che si crea tramite il matrimonio ad esempio i suoceri le nuore così via poi vabbè ci sono i gradi di parentela e i gradi di affinità e il grado di parentela si calcola calcolando le persone e togliendo lo stipide per esempio tra padre e figlio c'è un grado di primo grado perché sono due persone togli lo stipide e rimane uno tra fratelli ci sono il secondo grado perché c'è il padre di due fratelli togli uno e rimane due e così in basso c'è togliamo grazie grazie Grazie.